Mentre in cucina alcune tra le donne della casa sono alle prese con le stoviglie da lavare. In veranda Manuel cerca di tirare un po' su il morale di Nicola, demoralizzato da queste giornate senza Miriana. È proprio il ricordo di quelle cose che poi ti spinge ancora di più a vivere bene. Sei molto bene che significa stare solo, forse meglio di te nessuno qua dentro. Tu prova ad immaginare quanta gente che solo che sa che sei qua è come vedere un simbolo. Sei un bel simbolo, tu sei l'esempio concreto, non quello a parole. Manuel, sempre molto attento e pronto a mettere una buona parola, fa un bel discorso a Nicola, dove gli ricorda chi è, cosa ha superato e soprattutto quanto sia importante la sua presenza in un programma del genere, dato che ha la possibilità di rendere visibile a tutti che, dopo tanti sbagli e tante sofferenze, ci si può rialzare. Nicola ascolta attentamente le sagge parole del ragazzo e quasi sembra aver ritrovato un valido motivo per dimostrare tutto quello che ancora non è riuscito a tirare fuori. Manuel poi spiega a Nicola come lui è riuscito a superare le sue difficoltà. Io mi sento fortunato, non guardo chi sta meglio di me, perché purtroppo sono in questa situazione, guardo sempre chi sta peggio di me. Profondi, pesanti, tutto quello che vuoi, però sono veri, sono reali, è la realtà, è la realtà di cui noi abbiamo bisogno, capito? Per quello quando ti dico, quando gli hai detto, ricordati sempre dalla parte degli ultimi, proprio per dirti, valorizziamo sempre quel lato per sentirsi primi, per riuscire ad andare avanti, per riuscire a sentirsi parte di qualcosa e per sentirsi in grado di riuscire, ok? Perché se uno poi fa magari invece paragoni con altre cose, c'è sempre di meglio, potrò, c'è sempre qualcosa che tu guardi con l'ammirazione di dire magari, ma sai che io che dovrei? Io dovrei dire quanto è bello vederevi camminare. Invece no, guardo chi magari invece sta ancora peggio di me. Mi ritengo fortunato di essere qua perché invece c'è gente che nella mia situazione c'è andata, capito? Quella è la vera chiave di lettura per vivere e convivere con il dolore in persone come noi che non possono farne a meno, nel senso perché poi diventa proprio non riuscire a farne a meno, perché non lo nascondiamo e quindi è così. È possibile.